La gente come noi non molla mai La gente come noi non molla mai La gente come noi non molla mai Montecitorio, nuova dentro il curatore, Montecitorio, movimento indiratorio, cade giù Montecitorio. Montecitorio, nuova dentro il curatore, 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 Montecitorio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.